Gran finale per il campionato italiano velocità. Il round 35-70 di Vallelunga ha infatti assegnato i titoli della stagione. Quelli vacanti visto che Kevin Zannoni aveva già anticipato tutti andandosi a prendere la palma di campione della Moto3 al Mugello non più tardi di due settimane fa. Michele Pirro ha invece chiuso il cerchio in SBK. Il pilota della Ducati Barney Racing ha ottenuto la vittoria nell'ultima gara, una trionfo che lo incorona campione italiano per la sesta volta, un autentico primato per il pilota pugliese e collaudatore della rossa di Borgo Panigale in MotoGP. Pirro ha tenuto testa alla BMW DMR Racing di Luca Vitali. I due piloti hanno messo in scena un gran duello con il Ducatista che è riuscito ad avere la meglio solo nelle tornate finali. Massimo Roccoli ha invece conquistato il titolo nella SS600, Filippo Bianchi ha trionfato nella 125 due tempi, mentre a Manuel Bastianelli è stato sufficiente il diciannovesimo posto per laurearsi campione nella SS300, visto che il rivale Luca Bernardi non è riuscito ad andare oltre il quarto posto.